Nel video di oggi voglio farvi vedere una nuova funzionalità che è stata aggiunta con la versione 2.1 di Affinity Designer ed è un nuovo modo di copiare i nostri livelli. Ci sono tanti modi per copiare i nostri livelli che corrispondono alle nostre figure, non li staremo a rivedere ora, ma vediamo appunto questo nuovo metodo. Una volta che io ho selezionato il livello che voglio copiare, in questo caso l'anello, devo andare qui nel pannello livelli, cliccare su questo livello senza rilasciare il mouse, trascinare e tenere premuto su alt nella tastiera e trascinando poi ecco che vi si è andato a copiare il mio livello. In questo momento voi vedete solamente una figura ma perché ora questi livelli sono sovrapposti. Copio anche gli altri sempre con lo stesso metodo, cliccando, trascinando e tenendo premuto su alt e poi vi faccio vedere che appunto questi livelli sono stati copiati in questa maniera molto semplice e veloce. Vedete? Io ora li sposto, e così sono tutti quanti visibili e prima erano sovrapposti. Se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un mi piace o iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!